Siamo sempre su una pista di un aeroporto, quindi... Ciao Frank, come stai? Sì, sì, grazie mille. Ciao, ciao. Ti consegna questa maglia che poi metterai o adesso dopo, come vuoi. Adesso, Dante è leggero, metti la tua premia. Terle la misura e sei giù. Sì. Va bene. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Luca, ci sono stati più, poi ti faccio parlare, poi ti faccio parlare. Bene, grazie. 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 Facciamo una foto. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Un applauso. Grazie, grazie. Franco, quanto sei contento e quanto volevi venire a Firenze? Sono contento, felice, sono con la famiglia e dai, facciamo qualcosa tutti insieme. Senti, la tua storia è importantissima, hai incrociato anche Firenze in passato da avversario, adesso sarai invece una delle stelle di questa squadra. No, io ho già parlato una settimana con le persone della Fiorentina. Io lo so, ho già parlato anche con Luca Toni. Mi ha detto che la Fiorentina è un club grande e che anche la città è bella. no, io sono contento perché mi piace anche la lingua italiana. Beh, la sai già, perfetto. Sì, provare ancora, non sta perfetto, ma va bene. Senti, ti lasciamo andare e ci sarà un bagno di folle, i tifosi ti aspettano, sono felicissimi e questo, insomma, penso che sia un primo impatto di energia che arriverà per te. Sì, grazie, grazie. Ok. 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 Ora ci sono i tifosi qua, ci sono i minuti. Va bene, facciamo una foto. Ciao Firenze. Ok. 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 Ok.